Ero la maestra delle mie marmotte, testimonianza di Giovanna Giavelli, nata a Ferriere, classe 1886, contadina. Io non sapevo né leggere né scrivere, per mia disgrazia, sono mai andata a scuola. Eravamo sette di famiglia, solo il più vecchio sapeva un po' a leggere e a scrivere, ma gli altri niente, tutti alfabeti. Padre e madre un po' sapevano per l'uso di famiglia, per fare qualche documento, qualcosa. Ho solo frequentato un po' la prima, tra vecchi e giovani eravamo sempre una quarantina a scuola. C'era Barba Beth, che faceva un po' da maestro e un po' da prete, e non era prete, ma faceva la predica, sapeva come un prete, aveva l'istruzione, aveva il libro. Sì, poi ne abbiamo anche avuti di preti veri, ma aiutavano poco. Don Massa era bravo, era un prete di Roccavione. Padre e madre parlavano della loro miseria, avevano sempre avuto la miseria addosso. Avevano una vacca e un asino per lavorare la terra. All'autunno lasciavano le bestie allo zio e andavano in Francia. Eh, per forza andare in Francia. Tanti andavano in Francia a chiedere lemosina o da pastori a governare le bestie a Barcellona. In realtà, Barcellonette, in Val de Lubaie. Non si poteva vivere a ferriere, con poco pane e poco orso. Chi ne aveva? Ci toccava andare via. Pinotu de Perit faceva cuocere le serpi, faceva le serpi fritte. Diceva che la carne delle serpi era fine. Quasi tutti vivevano come noi, di miseria. Mangiavamo polenta d'orzo, polenta di meliga poca e un po' di castagne. Se dormivamo nelle stalle? No, dormivamo nelle stanze. Le stalle erano umide perché avevamo poca paglia per i giacigli. C'era un uomo grande avaro che faceva soffrire la famiglia. Al suo figlio, che andava al pascolo, alle pecore, dava la borsa con dentro un sonaglio perché la gente non criticasse. Così la borsa sembrava piena di roba da mangiare. Quel figlio è poi andato in Francia e quando è tornato a casa il padre gli ha chiesto. E allora, Janot, come li hai trovati i tuoi padroni in Francia? Oh, guarda padre, vuoi che ti dica? Il più cattivo padrone che ho trovato è stato mio padre. Mia madre è morta quando avevo sette anni. Ha lasciato cinque bambini. Da allora ho incominciato a far ballare la marmotta. All'autunno mio padre andava a scavare sottoterra, tirava fuori le marmotte, tre o quattro, e le mettevamo in una cassetta. Ero io la maestra delle marmotte. Con un bastoncino le ammaestravo le facevo ballare e fischiare. Le battezzavo anche. Ogni marmotta aveva il suo nome. Da mangiare davo loro delle mele, cavoli, erba e del pane. Le marmotte a colpi di bastone ballavano. Se le toccavo più forte fischiavano. Non volevano che le picchiassi. Facevo presto ad ammaestrare le marmotte. Con l'autunno avanzato le marmotte erano già addottrinate, ammaestrate. Allora andavamo in Francia a Lasado a chiedere la carità. Mio padre aveva 40 anni. Si metteva a spalle il carretto e la cassetta delle marmotte. Tre o quattro giorni a piedi passando dal colle del Puriac. Scendevamo a San Marten del bar e poi fino a Nizza. Portavamo non una ma alcune marmotte per paura che qualcuno morisse. Arrivati a Nizza o a Cannes mio padre si cercava un lavoro e noi bambini andavamo in giro a chiedere le mosina. Io e un fratello, il più giovane, lavoravamo con la marmotta. La marmotta ballava mentre io cantavo la canzone in francese. Una canzone fatta da me. Soldi non ne davano mica tanti. Un soldo o due. Andavo sempre a Cannes perché là c'erano i signori. Ci conoscevano da un anno all'altro. Come ci vedevano dicevano. Ecco quelli delle marmotte che arrivano. Le marmotte rosse erano cattive. Le grigie invece erano brave. Una marmotta rossa una volta mi ha morsicato una mano. Un giorno un commissario di polizia ha ammazzato una mia marmotta grigia. Ma gli ha portato male. L'hanno poi tolto da commissario. L'ho visto che faceva i se voleva mangiare. Che faceva le tendine per le finestre. Eh guadagnavamo poco. Io ho sempre fatto tutte cose da povera. Non potevo diventare ricca. Guadagnavo 200 lire tutta la stagione. Mica tutti gli inverni. Solo quando andava bene. Andavamo a chiedere la sado alle cucine degli hotel. Ci davano gli avanzi del pane. Un soldo al chilo. Compravamo le teste di montoni. Un bel piatto di quello. Come eravamo vestiti. Malamente. Un po' de trap di quello duro addosso e le zoccole nei piedi. Eppure noi bambini eravamo sempre allegri. Cantavamo sempre. C'erano altri di ferriere che facevano ballare le marmotte. Maria del Bagnolin era una di quelle. Ce n'erano della Valmaira di Accelio che venivano in Francia a far ballare la scimmia. Ma la scimmia graffiava. Ma abbiamo fatto una vita che non siamo ancora ricchi adesso. Già mio nonno andava in Francia a suonare la viola. andava a Brest in Bretagna. Tutto a piedi. Mio nonno faceva vedere la lanterna magica. Metteva un lenzuolo bianco di bucato. E lì sopra passavano le immagini. E lui faceva un parlamento. Nel 1940 nel tempo di guerra. Lì avevano ancora quei vetri della lanterna magica. Quei lastre. Ma noi siamo andati profughi. E al ritorno ho trovato tutte le lastre rotte. Mi ricordo l'immagine di una fontana che pisciava per aria. E mio nonno che faceva il parlamento. Che diceva dove si trovava quella bella fontana. Mio nonno guadagnava un soldo per persona. Dieci, quindici soldi erano già la sua giornata. Girava tutta la Francia. Mi sono sposata a 24 anni. Ho avuto un figlio, Victor, e due gemelle. Victor mi è molto affezionato. Tutte le sere, proprio tutte, dopo la sua giornata di lavoro, viene a trovarmi. Da sposata sono vissuta già un po' meglio. Mangiavamo castagne, polenta, tagliatelle di farina bianca, un po' di formaggio. Mio marito andava in Francia a tosare le pecore, dalle parti di Marsiglia, ad Arles. Se credevamo nelle masche. Si parlava tanto delle masche. Le masche facevano del male. Le faie, invece, erano un tipo di masche, ma non facevano del male. Afferravano un pastore e lo facevano ballare di giorno su al pascolo. E quello tornava giù spaventato e sudato. Erano i vecchi che raccontavano. Su una montagna di ferriere c'è il ballo delle masche. Nelle notti di luna vedevano lassù le masche che ballavano. Tante, in gruppo. Mio padre contava che lassù le masche passavano a cavallo, di corsa, e si sentiva che battevano le mani e urlavano sui prati di notte sotto la luna. Ma io non le ho mai viste, quelle masche. Sì, nel paese c'erano due o tre persone, uomini e donne, che erano masche, che facevano del male alla gente e alle bestie. E poi c'era l'uservant, l'uminette, un uomo piccolo, con il cappello puntito, l'usprit fullette. Mio fratello l'aveva visto. L'uservant aveva battuto le mani e via. Era scomparso. Il mugnaio di ferriere aveva una bella mula nella stalla e l'uservant aveva preso confidenza con quella mula. Dal fienile porgeva sempre il fieno nella stalla e teneva pulita la mula a brusca estriglia. L'uservant si era anche innamorato di Garitin, della moglie di mio nonno, di mio nonno Andrè, e le puliva sempre la vesta e poi scappava. Era come il vento, batteva le mani e scappava. La guerra, la guerra è poco bella. Uno dei miei fratelli, Giulio, è morto in Germania nella guerra del 15. Un altro, Androth, era negli Arditi, si è guadagnato tante medaglie. Eh, la guerra l'ho provata anch'io. Nel 1940 ero sfollata a De Monte, 22 giorni. Quando sono ritornato a Ferriere, sul mio campo di patate, c'erano stati i muli dei soldati. La miseria era già di nuovo lì. Poi nel 1944 a Ferriere sono arrivati i tedeschi, ancora tutti bravi. I muti erano poco bravi. Avevano la piuma ad alpino, ma erano alpini sbagliati. Sembravano galeotti. I partigiani erano solo buoni per le uova e per il burro. Sono qui all'ospedale di De Monte da molti anni. Mi piacerebbe tornare in Ferriere, nella mia casa, ma proverei una gran pena, né stranguium, andare a vedere Ferriere e poi tornare via. Mi piaceva lavorare la campagna. L'aria era buona, l'acqua era buona, l'acqua era il nostro vino. Tutte queste cose messe assieme si chiamano libertà. Era come avere le ali. Qui mi sento un po' come in prigione. La notte, quando sogno, sogno lassù, la mia casa, la prima, la casa dove sono nata. È una casa tutta nera, ma mi piace. Se socchiudo gli occhi, vedo Ferriere. Lo vedo un deserto. Ci sarà l'aquila lassù.